Nell'ambito del progetto di promozione della cultura statistica, l'ufficio territoriale per la Puglia ha svolto numerose attività. Per il progetto a scuola di Open Coesione abbiamo seguito diverse scuole, arricchendo la formazione degli studenti durante la loro attività di monitoraggio civico, li abbiamo guidati ad orientarsi nell'offerta della statistica ufficiale, nella navigazione delle principali banche date dell'Istat, con alcune classi abbiamo anche realizzato dei laboratori di analisi dei dati, di realizzazione di tabelle, grafici e questa attività ha suscitato molto interesse. Abbiamo avuto anche la possibilità di incontrare altri istituti, sia nell'ambito del progetto alternanza scuola-lavoro, sia per richieste specifiche che abbiamo ricevuto da singoli docenti. Per coinvolgere i ragazzi abbiamo utilizzato in alcuni casi strumenti interattivi, in altri abbiamo realizzato laboratori, introducendo i ragazzi all'utilizzo dei microdati. Con i nostri interventi abbiamo voluto far passare il messaggio che se da un lato la produzione e la diffusione di statistiche costituisce un immenso patrimonio informativo a cui attingere, dall'altro occorre la capacità di saper utilizzare queste informazioni con un approccio critico.